Il cuore di una ragazza di 19 anni Tiziana Limbo si è fermato all'improvviso La ragazza era da poco rientrata a casa dopo aver passato la serata a Salerno per ammirare le luci d'artista Tiziana, una ragazza solare, bella e piena di vita viveva con i genitori e suo fratello nel piccolo borgo di Punta Licosa frazione di Castellabate La famiglia, sempre presente alle manifestazioni che ogni anno il borgo marinaro di Ogliastro Marina realizza è molto conosciuta e apprezzata La causa della morte sarebbe da attribuire ad un arresto cardiaco che avrebbe fermato il cuore della giovane durante la notte Sul posto due ambulanze che hanno potuto solo constatarne il decesso La comunità che conosceva la ragazza si stringe al dolore della sua famiglia rimasta sotto shock per la terribile tragedia Tutti i cittadini di Castellabate in particolare di Ogliastro Marina e Punta Licosa sono vicini alla famiglia Limbo per la perdita della cara figlia Una folla aggrimita di parenti, amici, conoscenti hanno accompagnato questa mattina il feretro della giovane Tiziana a Punta Licosa nella chiesa della Madonna del Soccorso per donarle l'ultimo saluto Ciao piccolo Angelo, riposa in pace ogni volta che tu mi abbracci io mi accorgo che hai un vestito per ogni occasione ma la nostra non arriva mai non mi far promessa ad alta voce altrimenti non ti ascolterai